L'ente d'ambito Arriva una buona notizia per le famiglie che a fine mese si ritrovano letteralmente con l'acqua alla gola. La Gori e l'ente d'ambito sarnese vesuviano infatti hanno unito le forze per formare un bonus idrico che permetta a quanti non riescono a pagare le bollette o siano da tempo morosi di ricevere una somma come contributo in base al proprio modello ISEE. Per questo bonus, stando ai dati diffusi dalla Gori, sono state stanziate risorse pari a circa 4 milioni di euro da destinare a persone in difficoltà con la possibilità che la somma aumenti. Il bonus è rivolto a quelle famiglie in possesso di un'intestazione ISEE di valore inferiore o uguale a 7.500 euro e nucleo familiari con 4 o più figli a carico e un'attestazione ISEE non superiore a 20.000 euro. L'ammontare del contributo per una famiglia composta da 3 persone sarà pari a 490 euro per 4 annualità. Un sostegno che l'onorevole Carlo Sarro, commissario dell'ente d'ambito e Claudio Cosentino, amministratore delegato della Gori, definiscono un successo. Ascoltiamoli. È una misura con la quale noi cerchiamo di dare un sostegno a quelle che sono le fasce deboli e quindi avere quintuplicato le risorse, avere snellito ulteriormente le procedure, credo che rappresenti una risposta concreta e anche in tempi tutto sommato brevi a quelli che sono i bisogni purtroppo molto diffusi nel territorio del lato 3. Siamo al settimo anno di crisi economica nel nostro paese e quindi le situazioni di disagio e di difficoltà sono purtroppo aumentate. Sarà un importo importante per quanto riguarda questo anno perché potrà arrivare per famiglie di 3 persone fino a 500 euro, quindi una versione potenziata del bonus già varato nel 2014 che ha avuto un discreto successo con circa 10.000 richieste, tutte esaudite, tutte soddisfatte. Ci sono le maggiori risorse quest'anno perché l'ente ha pensato che c'è bisogno di un maggiore supporto e queste somme potranno servire sia per pagare le bollette future perché è regola oppure per eliminare le situazioni di morosità dove ci siano.